Che succede? La capitale è stata colpita da una 9.4, non c'è più contatto con la casa bianca. Dov'è l'epicentro? Nord di Chesapeake Bay. Signor Eliezer, il presidente russo in linea, signor. Chiedo scusa. È appena entrato nello spazio ferocinese? Sì, sì, affermativo, signor Presidente. Finché le comunicazioni non saranno ripristinate, è a me che aspetto il comando. Sembra che tutti gli altri capi di Stato siano in volo, con eccezione del primo ministro italiano, che ha deciso di rimanere in patria e di affidarsi alla preghiera. Abbiamo una maggioranza forte e coesa, un governo molto operativo, un premier super. Oltre il 60% di apprezzamento dopo le prove di efficienza date per la soluzione del problema di rifiuti ereditato dalla sinistra in Campania e l'organizzazione e dopo il terremoto in Abruzzo, avevano avuto il 68%. Senza spingere! Senza spingere! Senza acribio! Ma cosa fate? Tenga! Eh, Dio santo! Le identifiche non ha dato! Le identifiche non ha dato!